Tidal è il servizio di streaming che punta sulla qualità dell'audio. In questo video vediamo come funziona. Tidal è un servizio di streaming sviluppato nel 2014 da una società norvegese e acquistato l'anno successivo da Jay-Z e da una cordata di altri artisti con l'intento di promuovere la qualità della musica e di riservare agli artisti una ripartizione più adeguata rispetto a quello che fanno gli altri servizi di streaming come ad esempio Spotify o Apple Music. Premetto subito che non sono sponsorizzato da nessuna di queste piattaforme. Era quindi una curiosità capire come funzionasse Tidal perché non avesse ancora preso piede dal momento che era già stato dichiarato un flop tra il 2015 e il 2016 e sembrava che non riuscisse ad andare avanti anche se al momento è ancora presente capire come funziona e se ne vale veramente la pena. Tidal si presenta abbastanza simile a Spotify insomma comunque con qualsiasi servizi di streaming già presenti come erano soprattutto negli Stati Uniti Deezer e Pandora. Puoi cercare i brani, ci sono le playlist, ci sono anche i video. Cosa è per esempio Spotify non ha? L'apparenza è abbastanza normale. Bisogna mettere la modalità Hi-Fi per poter apprezzare la qualità audio in FLAC. Devo dire fin da subito che la differenza si sente. C'è molta più definizione dei bassi. Comparando lo stesso brano da Tidal o da Spotify si può apprezzare la qualità diversa del file. Il problema è chi lo può apprezzare? In che contesto? Se il brano lo ascolti da un telefono per la strada con delle cuffie o degli auricolari normali sinceramente la differenza non è così tangibile. Discorso diverso invece se lo metti in macchina con un impianto un po' più serio oppure in casa. Il problema successivo è a chi è rivolto? Qual è il pubblico ideale di questo servizio di streaming? Perché da un lato abbiamo la ricerca della qualità tipica degli appassionati di musica, degli audiofili, di chi spende tanti soldi per l'impianto e il trattamento della stanza. Dall'altro però il servizio è promosso da alcuni degli artisti più importanti nel panorama pop internazionale. Abbiamo già detto Jay-Z, c'era Kenny West, Madonna, Prince anche all'epoca aveva sostenuto questo servizio. E infatti l'algoritmo rappresenta un po' questo tipo di mercato discografico. È sostanzialmente una vetrina per il pop di maggiore successo a livello internazionale che sinceramente non c'è bisogno di un file di qualità per apprezzare un disco di Ariana grande con tutto il rispetto. Infatti il problema che ho riscontrato è stato che l'algoritmo ti suggerisce principalmente brani in testa alle classifiche americane partito dal modo. Un altro problema successivo dell'algoritmo è la ricerca casuale. Se inizia ad ascoltare un po' di brani, poi dopo prosegue da sé e in questo Spotify è veramente forte perché riesce ad individuare molto spesso brani attinenti a quello che stai sentendo. Tidale invece purtroppo l'algoritmo non è così ben definito perché o ti propone qualcosa di simile a quello che hai sentito in precedenza ma che può essere un genere completamente diverso da quello che stai ascoltando adesso oppure si ritorna lì, sui brani da classifica. Un altro punto dolente è il catalogo perché molti brani sono su Spotify e non sono su Tidale. Ha maggior ragione se si cerca di approfondire un po' i vari generi. È molto più facile scoprire qualcosa di interessante, innovativo, sperimentale su Spotify piuttosto che su Tidale. E anche lì la possibilità di avere un vasto assortimento è una caratteristica importante per un servizio di questo tipo. Il costo di base è più alto perché il pacchetto per il suono Hi-Fi va sui 20 euro al mese non c'è la possibilità di avere un servizio gratuito e questo va in direzione di poter ripartire i soldi agli artisti. Però il problema è che se non ci sono tanti iscritti è un po' difficile avere una ripartizione considerata più equa. Già ha difficoltà economico-finanziarie Spotify. Figuriamoci Tidale. In conclusione, Tidale è un servizio interessante. L'idea di fondo è valida però è sviluppata male. È sviluppata per un target di riferimento che non è quello adatto a chi cerca invece la qualità del suono e poi ci sono tutta una serie di problemi da superare per renderlo competitivo. Ci sarà da capire se i promotori vorranno insistere su questa strada che per ora non sta apportando risultati sperati e che magari potrebbe voler dire che c'è bisogno di un investimento importante per ribaltare la situazione oppure lasciarla invece decadere in tal caso si potrebbe valutare l'idea di tornare a considerare Tidale altrimenti il confronto con Spotify o con Apple Music è ahimè impietoso. Fammi sapere cosa ne pensi scrivi pure qua nei commenti e continua a seguire i video di Essere DJ Oggi. Alla prossima.